mai mai scorderai l'attimo ditemi dov'è il pennuto solo alfa può dirmi mai Dio mio quanto mi stai sul cazzo Russell mi stai sulle palle vai via vai via non so nell'effettivo cosa devo fare ma va bene lo dici tu ok no salire sul ramo non mi serve a nulla e prendi facciamo cambio un attimo ah ok no pensavo di doverlo accecare vieni Russell attento Russell segui nonno segui dai no e che cacchio io penso di dover schiacciare ancora cerchio ma va dai ma porca di quella ma cosa devo fare non va nessun ma sei stronzo ma dimmi almeno come devo fare oh e che cavolo ho fatto cerchio tre volte non ha mai funzionato adesso per qualche caro motivo si all'attacco ne all'attacco ma levatevi ma guarda te e bow bow attento Russell eh certo me 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 no vabbè almeno Russell smette di fare il Russell pronto eh pronto sono un coglione perché perché fate i cazzi che volete voi dove vai vabbè basta solo io a quanto pare Russell Russell è un idiota guarda te se devo far fare tutto il lavoro al nonno ma Russell muori dai un cretino sei ecco fatto tutto sto livello lo puoi fare benissimo solo con Carl e basta Russell è inutile come sempre ma levati ecco qua addio al cane e bow bow non potete scappare basta che ti muovi perché ho un impegno tra poco e vabbè il frutto se ne andò mi chiedo cosa devo fare beh abbiamo scoperto almeno cosa dobbiamo fare dai sì 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 colpisci Russell ti devi levare dalle scatole brutto cretino dai ma non è che ci arrivo no non ci arrivo allora una cosa alla volta Russell tu Carl qua Russell tu vai tu Carl continua mamma mia non pensavo fossero così gatti ma ti regno una bastonata qua e facciamola finita dai mamma mia vabbè in realtà meno di un minuto ci ho messo in più eh è stato solo un attimo il tempo di capire all'inizio cosa doveva come funzionavano i tasti dio mio non andava niente nuovo campionato rafting sì e io secondo te mi metto a farlo ciao 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 ciao